Ritrovate a Scampia, Martina Moscarella e Merisol Borrelli, le due ragazzine di Torre del Greco scomparse sabato sera. Dopo aver ricevuto una segnalazione, il padre di Martina si è fiondato a Scampia per recuperare la figlia e l'amica. Le due giovanissime sono state ascoltate dagli inquirenti e dal commissariato di polizia di Torre del Greco. Erano molto provate e stanche. Il PM della procura di Torre Annunziata ha disposto quindi l'apertura di un'inchiesta di ipotesi di reato e sequestro di persona. Si cercano ora tre uomini, due uomini con i quali le ragazzine hanno trascorso 16 ore e l'uomo che è armato ha ascoltato il padre fino all'uogo del padre. Ritrovate a Scampia, Martina Moscarella e Merisol Borrelli, le due ragazzine di Torre del Greco scomparse sabato sera. Dopo aver ricevuto una segnalazione, il padre di Martina si è fiondato a Scampia per recuperare la figlia e l'amica. Ritrovate a Scampia, Martina Moscarella e Merisol Borrelli, le due ragazzine di Torre del Greco e le due ragazzine di Torre del Greco scomparse sabato sera. Dopo aver ricevuto una segnalazione, il padre di Martina si è fiondato a Scampia per recuperare la figlia e l'amica. Le due giovanissime sono state ascoltate dagli inquirenti e dal commissariato di polizia di Torre del Greco. Erano molto provate e stanche. Il PM è la residente da anni a Monte Corvino Pugliani, detto il brasiliano per le sue origini, volto noto per attività di spaccio e di stupefacenti, gestito appunto nella zona di Alciaroli. Amici dei mimito delle nostre visioni, per la giornata di sabato 22 dicembre, le vacanze di Natale, Ok, cerchiamo.